non so dove siamo siamo qua in questo posto che non lo so non lo so che cazzo facciamo che è di là io sono uscito ma sei sicuro mi sembra di sì non so io non vedo un cazzo qui non vedo andiamo di qua dov'è no no isa ma cos'è al coltello al coltello al coltello c'è l'ha isa cosa facciamo isa oh mio dio e adesso mi spussevo del latte se non state attenti ehi hee 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 ehi hee hee